Ciao, sono Giulia. Sono nata a Berlino, studio psicologia infantile e oggi vi illustrerò una piccola tradizione tedesca per rendere il primo giorno di scuola meno traumatico. Vi serve un cartoncino grande 100x70, dei cartoncini più piccoli colorati, della carta crespa, una colla, dei pennarelli, una forbice e per finire un nastro colorato. Come prima cosa prendete il cartoncino grande e lo arrotolate a forma di cono. Per fissarlo usiamo la colla. Una volta finito prendiamo la carta crespa e la fissiamo nella parte superiore interna del cono. Terminato di fissare la carta crespa al cono il grosso del lavoro è fatto. Passiamo alla decorazione. Prendiamo i cartoncini colorati, il pennarello nero e cominciamo a disegnare delle forme che ci piacciono. E ora passiamo alle forbici per ritagliare le nostre figure. Una volta finite le figure possiamo cominciare ad attaccarle sul cono. Per dare un tocco finale al nostro cono possiamo usare dei glitter. La nostra shul tute è pronta, ovvero il cono per il primo giorno di scuola del nostro bambino è pronto. All'interno possiamo andare a mettere tutto quello che volevamo regalare al nostro bambino per il primo giorno di scuola. Penarelli colorati, un peluche, un piccolo astuccio. Quello che ci rimane da fare è chiudere il tutto con il nostro nastro colorato. Ed ecco la nostra shul tute e noi siamo pronti per il nostro primo giorno di scuola.